Io ho visto un video di un cavernicolo in tribuna con degli atteggiamenti che noi calcio femminile non vogliamo avere. Se li tenesse per il maschile, ma penso che abbiano preso le distanze tutti dall'atteggiamento che ha avuto, mi dispiace che c'è stata gente che ha cominciato a dire ma la giocatrice non ha denunciato quindi forse non è così, è un gesto affettuoso. Ma ragazzi è ovvio che non ha denunciato perché lei la prima reazione che ha avuto è stata quella di mi ha fatto schifo. La seconda è ovvio che il presidente è andato lì a parlarle e a dirle quello che doveva fare. Poi quando è venuta fuori tutta la polemica invece adesso Ermoso è ritornata dicendo determinate cose, è ritornata libera diciamo. Ma era evidente che era così, per cui c'è gente che l'ha difeso, no, non esiste. Ma sono contenta poi che la Spagna è un paese serio e quindi hanno reagito, i politici hanno reagito in un certo modo. Ora se non si dimetterà questo presidente io spero che gli sponsor prendano le distanze dalla squadra e da quello che sta succedendo. Ma credo che sia costretto a dimettersi.